Musei aperti in questo weekend, Trieste si prepara all'arrivo dei turisti per questo ponte pasquale, gettonatissimi anche gli altri capoluoghi della regione e le città d'arte. Le revisioni per gli arrivi sono buoni, c'è l'apertura totale dei musei sia la domenica sia il lunedì, anche questa è una delle cose in cui la città è cambiata, succedeva fino a qualche anno fa che proprio nelle giornate festive di maggior interesse per i turisti ci fosse la targhetta chiusa. Occhio però al cielo, per domani soprattutto dal pomeriggio sarà probabile qualche debole pioggia nel litorale friulano dove molti turisti hanno già prenotato nelle strutture alberghiere, gettonatissimi anche gli agriturismi con le strutture con ristorazione annessa che registrano già il tutto esaurito, complessivamente sono più di 23.000 i posti a sedere messi a disposizione dagli oltre 600 agriturismi regionali. Il tempo concederà una tregua a lunedì quando su gran parte della regione avremo cielo variabile o sereno, via quindi alle tradizionali scampagnate, anche se bisognerà un po' coprirsi, vista ancora le basse temperature, oppure tutti in castello a Udine dove sono disponibili i giardini. Ma chi vorrà invece godersi una passeggiata potrà farlo anche tra gli stand di Udine in Fiore che già questa mattina registrava un buon afflusso di persone. A Cividale invece andrà in scena tradizionale lancio di uova, il truc, in contemporanea nella città ducale si festeggerà anche la patria del Friuli con una solenne messa e la lettura della bolla dell'imperatore Enrico IV.